Una donna di 37 anni Federica Fabris è morta nel pronto soccorso di Chioggia a Venezia dopo che per tre volte si era rivolta all'ospedale venendo dimessa per altre tante volte. Secondo quanto ricostruito Federica aveva accusato un malessere che non le dava tregua accompagnato da vari dolori regati alla pancia. Per ben tre volte si era recata all'ospedale di Chioggia per farsi visitare per poi essere mandata a casa. Domenica mattina è stata chiamata l'ambulanza e la donna è deceduta. Al pronto soccorso l'azienda sanitaria USL3 fa sapere di essere vicina nel lutto alla famiglia e di aver avviato un procedimento di verifica sull'assistenza offerta alla paziente per assicurarsi della corretta gestione del caso. Grazie 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 Grazie